Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo video particolarissimo oggi. Restate sintonizzati perché ho chiesto alla mia bellissima amica Claudia, approfittando delle feste natalizie ormai eminenti, di intervenire per descrivervi il Ghost Cab di Colombo di Electronics, questo nuovo pedale in grado di simulare quello che è il comportamento di una cassa microfonata per chitarra elettrica. Abbiamo deciso di fare il tutto in maniera scherzosa rivisitando quelle che erano le televendite degli anni 90, quindi vedrete una situazione un po' chiamata così anomala rispetto al solito, ma andremo anche a vedere quelli che sono i suoni poi di questo fantastico pedale. Vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, commentate così potremo interagire ed ora non mi resta che lasciare la linea a Claudia. A te Claudia! Buongiorno chitarristi, io sono Claudia e oggi sono ospite sul canale di Frank per un piccolo spot pubblicitario. Sono qui per presentarvi Ghost Cab di Colombo Audio Electronics, il pedale in grado di simulare una cassa per chitarra elettrica. A causa di questa maledetta pandemia i vostri vicini sono chiusi in casa e non ne vogliono sapere di supportare il vostro sogno di diventare grandi chitarristi. Date loro il ben servito, acquistate Ghost Cab e con l'uscita dedicata per le cuffie potrete suonare giorno e notte. Questo pedale è di una comodità unica, puoi utilizzare i tuoi amati pedali analogici senza dover ricorrere ad un amplificatore. Collega Ghost Cab dopo di essi e sentirai che musica, in cuffia oppure direttamente nell'impianto. Ghost Cab è un pedale in grado di simulare in modo analogico una cassa microfonata per chitarra. Hey Frank! Frank, spiegaci tu, spiegaci tu meglio come funziona questo pedale. Bravissima Claudia, guarda non potevo chiedere i meglio come ospite in questo video. Andiamo un attimino a spiegare ora più nel dettaglio quelli che sono i controlli del Ghost Cab. Partiamo da questa levettina che va ad attivare o disattivare il preamplificatore integrato nel pedale. Poi abbiamo l'uscita per le cuffie, ricordiamoci che siamo in un periodo di lockdown, periodo pandemico, dobbiamo stare molto attenti, rimaniamo a casa, suoniamo con le nostre cuffiette, nessuno potrà mai venirci a disturbare. Poi abbiamo Mic Gain che va a determinare il guadagno del microfono virtuale, Mic Position che va a determinare quella che è la posizione di questo microfono intorno al cono della cassa, poi abbiamo Speaker o Response che interviene sulla risposta degli altoparlanti e poi abbiamo infine il Cab Size che come potete ben intuire dal nome di questo controllo va a lavorare sull'ingombro della cassa. Bene ragazzi andiamo ora ad ascoltare brevemente quello che è l'intervento dei quattro controlli sul nostro suono. Utilizzerò il Naoto di Colombody Electronics che presto recensirò qui sul mio canale, è un simulatore di JCM800 della Marshall. Da qui entro nel Ghost Cab direttamente nella scheda audio e questo è il suono clean. Preamplificatore del Ghost Cab integrato attivo, andiamo ad attivare il Naoto. Qui abbiamo il Mic Position al massimo, praticamente così è come se stessimo con il microfono al centro del cono, riducendolo mi sposto via via verso l'esterno del cono. in questo caso sto tenendo il Cab Size al massimo, quindi una cassa grossa, ovviamente rimpicciolendo il Cab Size andiamo a ridurre ulteriormente la cassa della chitarra, quindi il suono sarà ancora più in scatolato. Con speakers o responsa andiamo a intervenire sulla risposta degli altoparlanti, stando verso il minimo abbiamo un suono un po' più rock, oserei dire quasi metal. sentiamolo con un Cab Size più grosso e col microfono puntato verso il centro del cono. sentite come più metal. invece andando con lo speakers verso il massimo andiamo più verso suoni vintage. sentite. ed che suono ragazzi che suono e avete visto come è semplice da regolare il natale è ormai alle porte è il momento giusto per acquistare ghost cab che cosa aspetti telefona al numero 393 323 1175 oppure visita il sito www.colomboaudielectronics.it e ora sentite i pareri di alcune persone che sono intervenute per noi la volta abbiamo regalato il pedale al nostro vicino siamo tutti più tranquilli e io non ho chiamato più garabinieri da quando uso ghost cab non devo più sollevare pesanti amplificatori per le mie serate e mi tocca andare in palestra per farmi il fisico da quando ho comprato ghost cab non ho più denunce da parte del vicinato e quindi riesco anche a suonare a qualsiasi ora del giorno della notte divertendomi con i miei pedali e posso andare anche a molto scoperto qui nel vicinato ragazzi è giunto il momento di saltarci mettete un like a questo video se vi è piaciuto e soprattutto iscrivetevi al canale di frank e allora se ancora indeciso cosa aspetti prendi la cornetta ghost cab di colombo audio electronics ti aspetta Grazie a tutti.